Non basta parlare di Malamovida, bisogna monitorarla e prevenirne le conseguenze. Ed è su questo fronte che i carabinieri della Compagnia di Lecce proseguono spediti, mettendo in atto una stretta a tutto campo in coordinamento con le altre forze di polizia, Norm, Nile e Nass. Nel weekend appena trascorso i controlli si sono concentrati nelle marine del comune di Melendugno, tra le più gettonate, San Foca e Torre dell'Orso. Ciò che è emerso dagli accertamenti effettuati su strada e nei locali è presto detto. Trenta le multe elevate per il mancato rispetto del codice della strada, un mezzo sequestrato, due documenti ritirati, patente e libretto e cinque soggetti, di cui due minori, segnalati alla Prefettura per il consumo di stupefacenti. I controlli, come detto, hanno anche interessato diversi locali della Movida, tra quelli maggiormente affollati e in due casi hanno portato a sanzioni per l'emissione di musica oltre l'orario consentito dall'ordinanza comunale vigente. A Melendugno, poi, multe per lavoratori risultati irregolari e richiesta di sospensione per un esercizio di ristorazione con gravi carenze igienico-sanitarie e con sei chili di prodotti pronti ad essere serviti in tavola e non tracciati, per i quali, ovviamente, è scattato il sequestro.